Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Prontissimo, prontissimo. Ragazzi, quattro toti, quattro team of the year, due io, due te, facciamo cinque pescate per uno, ovviamente vince chi pesca? Il giocatore? Più forte, ecco, pesc 2017, pesc 2017, prima da sì, se no dice che c'è, va, 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 ok, è arrivato, ha fatto il giro, è arrivato da me, quindi posso salutare, ciao a tutti ragazzi per ritrovare con questo nuovo video, baci e saluti, aspetta, ah, siamo, che cazzo hai schiacciato? L'ingaggia il giocatore agente speciale, siamo tornati su PES 2016, 17, mamma mia, mogariato il 2017, torno indietro, invece d'anno avanti, guarda il cervello mio, è proprio bello, siamo tornati con questo nuovo video, c'hai, 46.200, però facciamo cinque spacchettate per uno, diciamo una cosa, la penitenza ragazzi, siamo stati male, ancora non ci abbiamo avuto modo, l'idea c'è, l'abbiamo elaborata, lo abbiamo preparato tutto, lo dobbiamo solo registrare, questo ancora sottosisce, io sto con la sciarpa, ragazzi, un attimo di tempo, non vi preoccupate perché una promessa, è una promessa, quindi, dai, è così, non comincio a dai toti, ovviamente, ma che sei pazzo, no, comincia con il best of, giustamente, che comunque qualcosetta ci potrebbe uscire, ma cosa ci offre, senti, io vorrei cominciare, se vuoi? perché vuoi, da me, vai, paga con GP, conferma, questa è la prima pescata del giorno, non mi dì che becchi subito ornero perché te confio, ma no, no, con questo non penso nemmeno di riuscire a trovarlo, cioè, neanche me lo segna, cioè, a me pensai di salir pesto, a te, a me pure, sì, era bello pesato, Rolando, dagli che è riuscito fuori, io, io avevo letto Ronaldo, figura, gli dico, ha già pescato Ronaldo, questo 77, qual è, Ronaldo il fenomeno di me, però, come c'ha 40 anni, no, va bene, l'hanno pippato, però, perché questo era uno dei dipensori più forti, quando giocava al Porto, al Porto, al Porto, al Porto, sembra che giocava al Porto, capito, al Porto de Genova giocava, la palleggiava, là davanti chiedeva gli spicci, vabbè, senti, mi sa che mo' lo fanno, aggiungiamo i membri, me lo metto a dilungare troppo, come al soli, si, come al soli, dici sempre il sacco di stronzate, guarda, quella è normale, ok, paga con GP, paga con GP, seconda pescata del giorno, oh, ho visto un nero che era sbucato alla fine, un nero, oh, però è pallone oro, è pallone oro, io intanto mi stringo a me stesso perché c'ho freddo, le corsette non le fa, l'ho immaginato, sembrava Iguain, infatti Allen, Lily Allen, no, no, è Giovanni, Giovanni no se ho inventato comunque così, Giulietto, Gigi Ruelle, vabbè, allora Stoxy, stoxy? maini avanti, così, vabbè, allora, vai avanti, aggiungi, presento a Stanta, aggiungi a membri i club, terza pescata del giorno, e poi c'hai due toti, 2 toti, manco uno a sto giro, se siamo proprio superati a livelli esagerati Pagano GP terza volta del giorno Conferma Dai che c'è sta il nero Ma tanto non lo pigli Dai si vabbè Mamma mia Sei una caccola secca proprio del 2017 Aggiungerei Ma chi è William José Caffè José Prova il gusto lo senti con me Lo sente con me Lo fa senti lui con me Vai aggiungere i membri my club Perché molte tocca Tira fuori sti tutoti Per chi non lo sapesse ragazzi C'è sta veramente roba molto importante Oh ma c'è sta il 13% Ce ne abbiamo due Ma vorrò fa sta pescata dai E che ne so io Guarda se becchi il nero Me ribatti Me incazzo come una belva Quindi Dai che cazzo Fanno 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 Non c'è credo Non c'è credo Non c'è credo Pagano il paglione Lasciate questo fenomeno Che cazzo è Ecco ti Ma li mortacci tu hai avuto Ma io non lo so Ma io non lo so Hai preso uno dei difensori più forti Del gioco 87 87 Segnatelo 87 Ma ribattuto un'altra volta Io non lo piglierò mai Il palazzo 94 94 90 E 87 Mamma mia Spirito combattivo Marcatore Colpo di testa Non hai esultato tanto Manco io Perché stiamo ancora male No ce la faccio più di tanto Più di tanto ce la faccio Scusateci Regà Cioè Ma penso che Quando te li senti meglio Eccolo che muore Non morire Te fa due secondi Dei sultanza Ma sono minato così Vabbè Se ne peschi un altro De vero E te esce un altro Io non lo so Devo chiamare 118 No 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 Ma tanto non mi esce Chiama la protezione animale Favo prima 12,5 Vai Per fortuna che hai detto Pallone nero Ha beccato il pallone nero Veramente Dai Dai subito Dai subito così Oh Rifallo scatto Rifallo 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 Eh vabbè Vuolevi troppo Te penavo Che fare i corsetti Vuole fare i corsetti Questo Casca per terra E scivola Vabbè Più di 87 Non posso fare Questo è Carapagall Carapagall Questo è forte Buonissimo 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 T'è andata benissimo Ha fatto due belle pescate In difesa Cioè io Per battere Devo pescare An 88 De UGG Cioè Ma sapete Di che stiamo a parlare Andiamo su account mio Sì Come per magia Sì Aggiungerei 11 e 4 pallone nero 82 Vabbè Senti UEFA Toti Nominis Dopo Dopo Best of 2016 2017 Prima pescare del giorno Vediamo quello che ci esce fuori Dimmi schiaccia No Eh Tu Te devo aiutare No Sul pallone nero Sul pallone nero Bravo No Che infamata Ne ci ha fatto Credevo Ma accontentavo di no Rodrigo Caio Caio Brasiliano Sao Paolo 23 Questo qua Se non sbaglio Era quello che si voleva Prendere Milan Che ci aveva Ci aveva provato Un sacco di volte Era pure forte Penso proprio De sì Ma a noi Ce ne può frega De meno De conseguenza Velocemente Subito Altra pescata Best of 2016 2017 Te dico Questo è più or nero Non esulto Non ce la faccio Mi sento male Eh ma guarda Se lo prendi Su sta gente Ma non volevo Manco schiacciare Sul nero Dai vediamo Però che cazzo hai preso Sono curioso 84 dai No Niente Ma chi è? Ma chi è? Sto cazzo Inui Ma manco lo conoscevo Manco io Manco tu Giapponese Va bene coi giapponesi 88-80 cip Pisellino Eh sì Bisellino Che è la Finta doppio cazzo Finta È una finta proprio In tutti i sensi Mono cazzetto Mono cazzetto Aggiungeremo Aggiungiamo anche ai membri My Club Poraccio dai Che poraccio La verità C'erano C'erano un sushi C'hanno un bonsai Allora Best of 2000 Che era 14 15 17 Ok Va bene così Vai No Non vedevi aiutato Anche a cazzo Schiaccio in questo momento Eccolo 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 Accentore Eccolo Eccolo Che si presenta Chi è questo Sarà 79 Questo sarà il 78 79 Mamma mia Ah Charlie Austin Questo non è male Questo è forte Mi piace come giocatore Ma hanno fatto troppo scherzo Sì Ma guarda Questo qua è il classico Inzaghi Eh appunto Mi piace Per quello che ho detto Mi piace come giocatore Le statistiche Se va a guardare Non è che sono tutto Sto franché Aggiungiamo ai membri My Club Dai e così Forza Questa è l'ora Della verità E basta E basta Tu ce l'ha avuto culo Sicuramente io Non ce l'avrò Ma ce l'hai Ma sempre Tutò Ti so Ci ho fatto pure Arima Peccate questa Che schiaccio Ce l'hai In questo In questo E dai va bene Sul loro Benissimo Ho capito Va benissimo Come al minimo 84 Dai Oh Che cazzo è Ma sto scarpino Che minchia è Ma Oddio Ah Ransi Dio Quello che fa morire la gente E lui però Questo è bravo Questo è forte Ma Sbaglio l'hanno migliorato Eh sì Ma è sempre stato Sull'80 26 anni gallese Arsenal Arsenal nel senso Che c'è un'arma Proprio a mezza Cosce Potrebbe Potrebbe essere Potrebbe Onnipresente Va bene così Manco fosse Gesù Cristo Resistenza 93 Buono Buono C'ha Veronica Se taglia le palle E gira E gira Che se ne sta Andando proprio La voce Sì Non gliela posso fare Ragazzi miei Aggiungiamo i membri My Club Andiamo avanti Con l'ultima Tanto non lo pesco Il pallone nero Cioè C'hai avuto Culo tu 12,5% Dei pallone nero Guarda Allora Schiaccio subito Eh ho sbagliato Schiaccio subito Se ne è stata nessuna Capita troppo Ah no Niente Ma vattene Fanculo Nel 2017 Fammiarmi nei corsetti Dai su Scivola Scivolelle Ma che è carval Pure a me Eh può darsi No è carval No ma non ci posso credere Cioè questo Stanno a più o pa Comunque mi serve Sì sì Questo ti dica la verità Mi serve A tutti A tutti Cioè ce l'abbiamo Tutti e tre gli account Proprio col toti Sì sì È incredibile Dai Hai vinto pure stavolta Ma tanto arriverà Che devo arrivare Che devo arrivare I penitenzi I penitenzi Cazzo sta Le penitenzi Devano arrivare Però vabbè Faremo una penitenza unica Già l'abbiamo detto Fareci Ripia al secondo Se è piaciuto questo video E volete noi I volumening E farli Tu mi ce la faccio 600 like Nel prossimo video Come fai a saperlo Che aver chiesto oggi 600 invece dei 500 Perché ho preso il pallone E perché ci stanno 4 toti Che abbiamo spacchettato Eh che cazzo Quindi Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Lasciate un bel like Su questo video E poi E poi me salutiamo Raga Me diamo appuntamento Alla prossima Andiamo a mettere a letto Fa freddo Ma non solo fa freddo Io mi sento male Gira la capoccia Quindi bella Ciao ragazzi